Buongiorno a tutti i maestri e allievi dell'Arthur Murray di Firenze! Mi raccomando, oggi è il primo giorno del nostro International Dance Festival. Da oggi inizia il Giro del Mondo in 80 balli. Questa settimana la dedichiamo a Rio di Janeiro, quindi faremo dei viaggi straordinari, ovvero nei gruppi e nelle pratiche faremo dei balli assolutamente esotici. Faremo lo zucca, il samba di gaffiera, il samba e poi tra l'altro il colore che va di moda in questa settimana è il giallo. Quindi durante tutta la settimana porta qualcosa che sia di questo colore. E poi durante il gruppo e la club dance che facciamo il giovedì deve essere il colore che prevale nel tuo abbigliamento. Giovedì grande festa, quindi mi raccomando non mancare. Ricorda anche che questo International Dance Festival è una gara tra le diverse scuole dell'Arthur Murray nel mondo. E noi siamo in gara con altre 9 scuole dell'Arthur Murray. È un gioco naturalmente, ma il tuo sostegno è importante perché tutto quello che tu farai in questo periodo darà dei punti a te, quindi dei chilometri, darà dei punti a te, ai tuoi maestri e alla scuola. E questo ci serve per la classifica generale. Quindi mi raccomando, sostienici, iscriviti, diventa un sostenitore del tuo International Dance Festival della tua scuola Arthur Murray di Firenze. Ci vediamo a scuola, un bacione, ciao!